Finisce qua, finisce qua la Serie A del Genoa In una partita dove si sono viste forse uno del peggior calcio di tutto il campionato Due squadre veramente inguardabili La Samp è sicuramente superiore tecnicamente Però veramente inguardabile anche lei Il Genoa oggi ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare Come avevo già detto, Blessing ha un gran motivatore Ma non sa leggere le partite E soprattutto nelle partite importanti, come abbiamo visto col Verona Le sbaglia, probabilmente carica troppo i giocatori di irresponsabilità Non sa comunque leggere le partite Perché è bastato vedere il finale di questa partita Che dovevi giocarla così dall'inizio Cioè giocando sulle fasce e attaccare la Samp sulle fasce Ma noi invece la giochiamo per via centrale Quando sappiamo che per via centrale la Samp non la buchi È una prestazione veramente indegna Perché comunque non ci hanno messo la grinta delle partite precedenti Ed è di nuovo un altro derby, di nuovo così All'andata forse è stato peggio Ma al ritorno la musica è cambiata ben poco Una squadra senza palle Una squadra che in 90 minuti in un derby così importante Prende solo una munizione Vuol dire che è una squadra che non ha lottato Che non ha avuto grinta Che non ci ha neanche provato Perché non ci ha neanche provato Perché eri sotto 1-0 E rimanevi in difesa Una cosa veramente inguardabile Il capitolo rigore poi ci arriviamo Cambi di nuovo mistici Con l'entrata di un misero giocatore di nome Melegoni Che se può portar via le palle da Genova Forse è l'ora Perché è un giocatore così neanche in Lega Pro Si vedrebbe Ha paura di andare a fare contrasti Ha paura di prendere dei calcetti Forse doveva fare danza e non giocare a calcio Un destro inguardabile Un destro che non ha toccato una palla per 90 minuti Se non sgomitare e basta Un toglieramiri Che era quello che stava facendo un po' di più Secondo me è stato un disastro Un Portanova entrato male E è finito peggio Un Gudmundson che lasciamo perdere Un esterno Abbiamo un esterno che giocava in Champions League Sì anche se con lo Young Boys che è hefty Ha sbagliato una partita E gli preferiamo Frendrup da due partite Da due partite che Frendrup fa delle cagate micidiali Tra l'altro Frendrup non è un terzino Forse a Blessing qualcuno glielo dovrebbe dire Che Frendrup non è un terzino Le responsabilità Tutto quello che succederà Ne parleremo poi a fine stagione Questa è una partita disastrosa Disastrosa Giocata con la mentalità sbagliata Senza grinta Io veramente mi tocco Mi tocco perché non C'è veramente C'è poco da commentare Questa partita Non è tanto perdere Perché comunque hai meritato di perdere Cioè meritato vabbè C'erano tutte e due Vabbè Però Ha perso al calcio Non c'è Non Non mi capacito di Di esseri Perché non sono giocatori Sono degli esseri Non Si possono ritenere Persone Quegli undici Che erano in campo oggi Quei quindici Che sono entrati Quanti cazzo sono Non Una serie B meritata Per carità Hai vinto Tre partite Due partite In tutto l'anno Non potei pensare Di salvarti Vincendo Le ultime quattro Vorrei capire Cosa dirà Blessing Negli spogliatoi E comunque Cosa dirà In conferenza stampa Perché basta Leccare il culo Alla tivoseria Che oggi Ha dato Prova Di superiorità Ma di superiorità Alla squadra Non tanto A quelli di San Piero d'Arena Ma ha dato Prova di superiorità A una squadra Di indegni Perché ha cantato Fino al novantesimo minuto E non merita Di essere trattata Così Da quei 15 Che oggi erano In campo Blessing Leccherà il culo Ancora Dirà Mi dispiacerà Per questa grande Tifoseria Eccetera Però Ha anche Delle sue colpe Arriviamo Però a commentare Il momento Più brutto Verso della partita Che è stato Quel rigore A prescindere Che un rigore Così Lascia il tempo Che trova Perché se fischi Questo rigore qua Fischi il fallo Non dai manco Il gol di Sabiri Perché c'era fallo Su Gadamash Ma Ripeto Non è colpa Di arbitro Niente È colpa Che dai Ricevi un regalo Perché ricevi Un regalo Dall'arbitro Al novantacinquesimo Perché comunque Anche se Non avesse toccato La palla di mano O di braccio Come l'ha toccata Cioè parliamoci chiaro Va bene Aveva il braccio largo Però Era ognun contrasto In aria Cosa poteva fare Si tagliava il braccio A ugello Mi sembra che era Va bene Prendi questo rigore Al novantacinquesimo Adesso io non so Come è andata lì Se c'era qualcun altro Che lo voleva tirare O Gli ordini sono Tira Criscito E basta Ma Criscito Ha tirato Uno dei peggiori Rigori Che ha tirato Col Genoa Ha tirato Una ciofeca A mezza altezza Le classiche I classici Rigori Che il portiere Ti para Veramente Non voglio dire niente Perché L'ho già detto In live Non mi capacito Da rigore Battuto Da Criscito Io Tra tutti gli unici Che c'erano in campo L'unico A cui non avrei fatto Battere il rigore Era Criscito Perché ricordiamo Ricordiamo I tempi di Boselli Gli accordi Eccetera Eccetera L'unico A cui non avrei fatto Tirare Era proprio lui Probabilmente Non c'era nessun altro Che lo voleva tirare Non lo so Non mi interessa Sicuramente Ha tirato Un rigore Scandaloso E adesso Da buon capitano A fine stagione Porterà via I coglioni E andrà in Canada Complimenti Criscito Fai retrocedere Il Genoa Cioè Lasci il Genoa Facendolo retrocedere È vero Non è tutta colpa tua Perché le colpe Arrivano a monte Ma questo rigore Decreta la fine Del Genoa SRA E tu porterai Via le tue Belle borsette E te ne andrai In Canada Grazie Mimo Numero 1 Sono curioso Di vedere Cosa scriverai Oggi Su Instagram Perché Voglio vedere Le lacrime Che verserai Su Instagram Poi per carità I rigori Si possono sbagliare Le abbiamo viste L'ha sbagliato anche Baggio Ai mondiali Quindi Però Io Questo rigore L'unico A cui non avrei fatto tirare Era proprio lui Se poi nessuno Voleva tirarlo Un altro discorso Però Probabilmente Era meglio Non averlo Questo rigore Perché Avessimo Finito Ho perso Una zero Senza rigore Vabbè Hai perso Hai giocato peggio È giusto Che hai perso Perdere Sapendo Che hai buttato via All'occasione Del pareggio Con un rigore Regalato Fa ancora Peggio Fa ancora male Fa Più male Secondo me Più male Non Non riesco a dare Un commento A questa partita Un commento Normale Perché Non Non ce la faccio Non riesco A commentarla Questa partita Per l'atteggiamento Della squadra E soprattutto Cioè Se dovessi dire Anche su rigore Se dovessi dire Quello che penso Probabilmente Chiuderemo il canale Quindi È meglio che non lo dico È meglio che non dico Anche cosa penso Di quella persona Che ha tirato rigore Quindi Niente La matematica Non ci condanna Ma Battere Juve e Napoli Non so Vabbè Niente Ci hanno ripagato Della stessa Nostra moneta Noi l'avevamo pagato Con Boselli Loro Con Sabiri Quindi Niente Ci vediamo Al prossimo post partita Che sarà Genoa Juve Ma C'è poco da dire Ciao a tutti